Quando si tratta di medicina, questo posto è come il Far West. Non sai mai cosa può capitare nella giungla. Improvvisazione. Ci vuole improvvisazione. Hanno scelto un luogo ben difficile. Minorda, fai preparare la salone, la coria. Per mettersi alla prova. A chi non piacciono i serpenti? A me piace. Li adoro, vengo io. E scoprire. Noi lavoriamo insieme. E allora? Chi sono veramente? Nessuno ci può licenziare. Non c'è un ufficio del personale nella giungla. Off the map. Prossimamente su Italia 1.